La Corte Costituzionale dice che la quarantena non è una misura che viola la Costituzione, non è una violazione alla libertà di movimento garantita dalla Costituzione, ma si tratta di un limite alla libertà di circolazione. Visto che questa sentenza ha già suscitato polemiche, andiamo a vedere come i giudici hanno motivato. Ricordiamo che la questione era stata sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia, che suggeriva una violazione costituzionale nei provvedimenti di quarantena per i positivi, che quindi avevano l'obbligo di rimanere in casa. Il dubbio nasce dalla convinzione che una misura così limitativa della facoltà di libera locomozione, sentite che termini che usano, da impedire l'uscita dalla propria abitazione durante la malattia non possa che ricadere nella sfera giuridica della libertà personale, al pari di misure che il giudice a quo reputa del tutto affini quanto al grado di afflittività, ovvero agli arresti domiciliari, che sono una misura cautelare, la detenzione domiciliare è una misura alternativa alla detenzione. È evidente che la facoltà di autodeterminarsi quanto alla mobilità della propria persona nello spazio e lì è di principio, costituisce una componente essenziale sia della libertà personale sia della libertà di circolazione. Tuttavia, i criteri che il rimettente suggerisce, cioè il giudice di Reggio Emilia, per qualificare la fattispecie essenzia dell'articolo 13 Costituzione, anziché in base all'articolo 16, non hanno mai trovato corrispondenza nell'ormai pluridecennale giurisprudenza maturata da questa Corte sul punto controverso. Con la sentenza 68 del 1964, ha già rilevato che i motivi di sanità che permettono la legge ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione di limitare in via generale la libertà di circolazione delle persone possono giungere fino alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose. Perciò, in linea di principio e impregiudicato ogni ulteriore profilo concernente alla legittimità costituzionale di tali misure, non si può negare che un cordone sanitario volto a proteggere la salute dell'interesse della collettività, articolo 32, possa stringersi di quanto è necessario secondo un criterio di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alle circostanze del caso concreto per prevenire la diffusione di malattie contagiose di elevata gravità. La misura predisposta dal legislatore, trattandosi di un virus respiratorio altamente contagioso che può venire contratto da chiunque, è riservata a una vasta e indeterminata platea di persone. È dunque di immediata evidenza che l'accertamento dello stato di positività non si congiunge ad alcuno stigma morale e non può cagionare mortificazione della paridignità sociale, anche alla luce del fatto che si tratta di una condizione condivisa con migliori di individui accomunati da null'altro che dall'esposizione ad un agente patogero trasmissibile per via aerea. Va infine ribadito che il paragone che il giudice rimettente instaga con le misure degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare è insostenibile. In tali casi si è infatti in presenza di misure proprie del diritto penale, la cui applicazione è inscindibilmente connessa a una valutazione individuale della condotta e della personalità dell'agente, da parte dell'autorità giudiziaria a ciò costituzionalmente competente. Sono questi elementi che danno pienamente conto della ragione per le quali non è dubitabile che simili misure siano soggette alla riserva di giurisdizione di cui è l'articolo 13, ma che al contempo servono a chiarire perché non lo debba invece essere la cosiddetta quarantena obbligatoria che non fa seguito ad alcun tratto di illiceità, anche solo supposta nella condotta della persona, ma alla sola circostanza del tutto neutra sul piano della personalità morale e della paridignità sociale di essersi ammalata a causa di un agente patogeno diffuso nell'ambiente. Sebbene il legislatore abbia costruito la figura di reato sull'inosservanza del provvedimento che sottopone la singola persona alla quarantena a seguito di positività, non solo non vi alcun obbligo essenzio dell'articolo 13 che tale provvedimento sia convalidato dall'autorità giudiziaria, ma di quest'ultimo provvedimento amministrativo non vi sarebbe neppure stata la necessità costituzionale. Qui la Corte dice addirittura la natura del virus e la larghissima diffusione di esso l'affidabilità degli esami diagnostici, infatti i tamponi sono affidabilissimi. Per rivelarne la presenza sulla base di test scientifici obiettivi fugano ogni pericolo di arbitrarietà e di ingiusta discriminazione, tale da chiamare in causa il giudice affinché la misura dell'isolamento sia disposta o convalidata tempestivamente. Fermo restando che il malato non solo, come si è visto, può sottrarsi alla misura obbligatoria ma non coercitiva, ma può altresì far valere le proprie ragioni in via di urgenza innanzi al giudice comune perché si è accertato il diritto di circolare quello che ha difetti nei presupposti per l'isolamento. Quindi la questione non è fondata, così la Corte va a dichiarare. Quindi dal punto di vista giuridico è stato fatto questo ragionamento, non è una violazione al diritto di movimento ma al diritto di circolazione e capite che con simili motivazioni potrebbero ad esempio salvare il lockdown, anche se in questo caso sarebbe più complicato fare le stesse valutazioni perché comunque abbiamo visto persone rincorse nelle spiagge, persone anche trattenute dalle forze dell'ordine durante il lockdown. Quindi la Corte lì avrebbe qualche difficoltà in più a salvare il lockdown con questo tipo di motivazioni. Non erano arresti domiciliari ma era appunto una misura di tipo sanitario. Comunque la Corte ragiona così, c'è chiaramente una tendenza a salvare tutto quello che è stata la produzione di decreti di PCM in chiave Covid perché è evidente che poi si aprirebbe la strada a milioni forse di risarcimenti. Adesso vedremo cosa farà la Corte sull'aspetto più importante, quello della vaccinazione. Avete visto che anche in questa sentenza si richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale e sappiamo benissimo che la giurisprudenza della Corte Costituzionale in chiave vaccinale dice sostanzialmente che non è sostenibile anche solo un grave danno o comunque un danno fatale potenziale per una persona per giustificarne quindi l'obbligo e quindi qui bisognerà vedere come la Corte si destreggerà nei confronti delle motivazioni e degli argomenti sollevati dal Consiglio Siciliano è il secondo grado della giustizia amministrativa siciliana e certo non basteranno motivazioni come questa ma servirà molto ma molto di più. Comunque questa è l'aria che tira in questo momento alla Corte Costituzionale.